Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Gesù insegna come uno che ha l'autorità, rivelandosi così come l'inviato di Dio. Gesù ha una piena autorevolezza. La sua dottrina è nuova. Il Vangelo dice che la gente commentava «un insegnamento nuovo, dato con autorità». Al tempo stesso, Gesù si rivela potente anche nelle opere. Nella sinagoga di Cafarnao c'è un uomo posseduto da uno spirito immondo che si manifesta gritando queste parola «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Il diavolo dice una verità. Gesù è venuto per rovinare il diavolo, per rovinare il demonio, per vincere. Questo spirito immondo conosce la potenza di Gesù e ne proclama anche la santità. Gesù lo sgrida dicendole «Tacci, esci da lui». Queste poche parole di Gesù bastano per ottenere la vittoria su Satana, il quale esce da quell'uomo straziandolo e gritando «forte», dice il Vangelo. Questo fatto impressiona molti presenti. Tutti sono presi da timore e si chiedono «Ma che è mai questo?». Gesù è il nostro Maestro, potente in parole e opere. Gesù si comunica tutta la luce che illumina le strade, a volte buie, della nostra esistenza. Ci comunica anche la forza necessaria per superare le difficoltà, le prove, le tentazioni. Pensiamo a quale grande grazia è per noi aver conosciuto questo Dio così potente e così buono. Un Maestro e un amico che ci indica la strada e si prende cura di noi, specialmente quando siamo nel bisogno.